Siamo con Emilio Langella, mello del match della sfida vinta 5 a 2, poi Milano con la torre del balec, 4 gol segnati, porta a casa un pallone e mezzo, visto che di solito se con 3 ne porta a casa uno, insomma meglio di così non poteva andare. No no, sono contento, l'importante erano i tre punti, quindi indipendentemente dai gol va bene così, e sì sono contentissimo, se arriva a Nigoro è ancora meglio poi. Sei una squadra molto giovane, insomma tu sei l'esponente anche tu della gioventù bruciata di questa squadra. No sì, è una cosa buona comunque perché vedere tanti giovani secondo me fa sempre bene, anche se magari a volte pecchiamo di inesperienza, però siamo l'outsider del campionato. Bene, allora, vantino al premio, fai vedere bene la statuetta, complimenti, e questo poi invece è il premio on the match, quello offerto da Bet Advisor, il nostro partner. Fai vedere bene anche quello.